Orso seduto tra i rifiuti che cerca cibo, la foto simbolo della natura che grida aiuto. Seduto tra i rifiuti in fiamme di una discarica a cielo aperto. E un'immagine desolante quella di un orso fotografato in Canada da Troy Mott, che lascia l'amaro in bocca e mostra ancora una volta, il grido d'aiuto della natura distrutta dalla mano dell'uomo. Una foto che ha fatto il giro del mondo, che fa tenerezza da un lato, rabbia dall'altro. Un orso con aria confusa e spaesata è seduto sopra un letto di immondizia. Una scena quasi surreale, dove bottiglie di plastica, sacchetti e rifiuti di ogni sorta lo circondano. Alle spalle il bosco che brucia, lui rassegnato rovista in cerca di cibo. La scena è stata immortalata in una discarica a cielo aperto dal fotografo canadese, che si trovava in una comunità dell'Ontario, in Canada, per girare un documentario. Troy Mott non si aspettava di trovarsi di fronte a una situazione del genere, infatti non è riuscito a scattare subito la sua foto. Una volta arrivato in quel luogo incredibile non sono riuscito a scattare. Il giorno dopo son tornato indietro, ero più preparato ad affrontare quella situazione, scrive su Instagram. Il fotografo canadese era, come dicevamo, in una comunità dell'Ontario per girare un documentario, ma ciò che l'ha colpito di più è stata un'intera vallata invasa dai rifiuti. Laddove doveva esserci una natura selvaggia c'era la distruzione più totale. Ho pianto quando ho scattato la foto, ho pianto quando ci ho lavorato. E di nuovo ho pianto tante volte quando ho ripensato a quel momento. E sicuramente la fotografia più straziante che io abbia mai scattato, continua Mott. Lo scatto è stato chiamato Invisibile Orseman, 2017, ovvero il Cavaliere Invisibili, con un chiaro riferimento ai Cavalieri dell'Apocalisse, il perché lo spiega sempre in un post di Instagram. Il tema dell'Apocalisse è molto evidente in questa fotografia. L'ho percepito quando ho preso la macchinetta e ho scattato la foto. Mi trovavo in un luogo isolato, non c'era nulla per miglia e miglia, solo rifiuti e natura. In quel momento ho realizzato come tutto quello fosse distante da noi, come tutto quello fosse in realtà invisibile agli occhi umani. E questa immagine tristemente ce ne ricorda altre, come quella degli scenari inquietanti del fotografo Nick Pumphrey che durante un viaggio a New Salem-Bongan, a largo della costa di Bali, ha visto da vicino il problema inquinamento da plastica o ancora quello di Justin Hoffman, tra i finalisti del prestigioso concorso Widliff e Photographer of the Air 2017, un cavalluccio marino intento a trascinare un cotton fioc rosa. Scatti simbolo di un pianeta che non ce la fa più.